C'è ancora troppa burocrazia per aprire un'impresa artigiana meccatronica in Veneto. Sono troppi passaggi che sono richiesti e questi fanno diminuire l'attrattività delle imprese verso le nuove generazioni. Ed è importante semplificare gli aspetti burocratici, snellire le norme di settore e fare in modo che da questo punto di vista ci sia più attenzione a questo comparto, che è un comparto importante perché sta vivendo una fase di transizione legata anche all'evoluzione del settore automotive e che consente di dare un campo molto rilevante anche alle evoluzioni del Made in Italy. Le attrattività che può essere fatta nei confronti delle nuove generazioni è per noi un elemento indispensabile per consentire a queste imprese di crescere e svilupparsi anche dal punto di vista strutturale.